Era il 1978, a Torino in una lavanderia, e la signora mi disse «Sior Polti, ma perché non pensa a un ferro come il nostro professionale?» Perché vedendo stirare nelle lavanderie il tessuto, la camicia, ok, veniva sempre perfetta. E dice «Perché io in casa non riesco a fare come fa lei in lavanderia?» Si è accesa la lampadina, ho pensato «Perché? Si può fare!» La prima cosa che mi è venuta in mente è il nome, lo farò e la chiamerò Vaporella. Beh, personalmente l'attività l'ho iniziata per aiutare mio marito che aveva questo progetto e quindi l'ho affiancato. Dopo ho iniziato con un mio amico ingegnere a sviluppare e miniaturizzare la caldaina e da lì è nata Vaporella. Diciamo che la prima Vaporella è nata proprio nella nostra cantina, nella cantina dell'appartamento dove abitavamo appena sposati. Ma perché io ci credevo? È il sogno che io cerco di spiegare un po' ai giovani. La tenacia, la voglia, ma soprattutto la passione. Io ho passione, quanto costruisco qualcosa e quanto faccio qualcosa lo faccio con passione. Le difficoltà sono state tante perché realizzi il prodotto ma poi bisogna venderlo. La difficoltà di creare una struttura, di creare un'organizzazione sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista commerciale. E da lì poi la storia di Vaporella ha continuato. Io ho iniziato in Polti nel 2006, ho iniziato come project manager, un po' per scherzo. E poi, dallo stage, sono diventata direttore generale. Quindi il percorso non è stato così immediato. Ovviamente ho iniziato come project manager, facevo dei piccoli progetti, poi mi sono appassionata molto. Io ho avuto almeno l'umiltà di far mettermi da parte perché il futuro dell'azienda è mia figlia. Nel 2009 sono diventata direttore generale e da là ho impostato poi le linee guida del futuro della Polti. Non è stata una cosa negativa, anzi una cosa positiva perché ha preso in mano tutto Francesca Polti, che secondo me è una grandissima donna. Si può dire che Francesca ricalchi un po' anche il carattere di suo padre, la determinazione. Vuole portare avanti tutto e tutti insieme. Ha molta carica, molta energia. Questo si riflette su tutti i dipendenti in modo positivo. Da quando arriva a Tarei vediamo che si sta, allora parte dando l'anima. Ci coinvolge tutti con le sue idee, con la sua forza, perché veramente è un vulcano. Polti per me oggi è una grande scommessa. È questo direi perché io ho investito tantissimo e sto investendo tantissimo in questa azienda, in questa famiglia perché poi è quello che siamo. La maggior parte dei nostri dipendenti lavorano con noi da 25, 30 anni, 40 anni. Sono nati diversi amori, tanti matrimoni, tantissimi figli e qualche divorzio anche. Sono arrivata qui in Polti che ero 19enne e ragazzina. Sono cresciuta e oggi finalmente sono mamma. Che ha fatto crescere i miei figli e grazie a loro. Innanzitutto la famiglia Polti che mi ha accolto. Io che sono qui da poco, quindi da tre mesi, l'ho sentita molto questa cosa e devo dire che è stato molto molto bello. Anche perché io in tutti questi anni l'ho sentito come anche una famiglia proprio allargata. Qua da 28 anni ormai conoscono tutti. Io in Dittapolti ho conosciuto mio marito e la mia seconda famiglia. Perché ho fatto più di 28 anni qua e più della mia, la metà di mia vita qua. Una grande famiglia fatta di persone che giorno dopo giorno lavorano fianco a fianco. Uno aiuta l'altro. Siamo fratelli e sorelle, ci vogliamo bene. Polti ha una varietà e una ricchezza di umanità e di competenze che la rendono unica e che ci permettono veramente di raggiungere tutti i traguardi che ci stiamo prefiggendo. Un'azienda fatta di persone con dei valori, un'azienda umana. Dove ogni giorno si affrontano sfide nuove e dove si cercano sempre delle nuove soluzioni. Proprio perché è una famiglia italiana convinta e proprio perché il Made in Italy deve essere assolutamente difeso e esportato. E Polti si fa carico di questa cosa tutti i giorni. È stata una scelta forte per noi. Tante volte, in tanti casi, ci hanno proposto, chiesto di spostare la produzione all'estero. E noi, con molta caparbietà, abbiamo detto no. Noi crediamo che sia ancora un valore importante produrre qui, non solo dal punto di vista qualitativo e di controllo, ma anche e soprattutto dal punto di vista etico. È un prodotto fatto da noi. Questo è un valore unico per i nostri clienti. Quando si parla di Made in Italy, si pensa alla qualità. La fiducia. Con orgoglio e dai italiani vogliamo proporli a tutto il mondo. Polti è Italia e Polti, quello che fa qui in casa, lo fa decisamente bene. Questo è un grande vantaggio per l'ambiente, perché comunque non abbiamo il trasporto da paesi dell'est all'Italia. Ma non solo. Sono prodotti con energia rinnovabile, perché noi in fabbrica abbiamo il fotovoltaico. C'è una grande attenzione sia nei confronti dei consumatori, delle famiglie, e c'è anche una grande attenzione nei confronti dell'ambiente. Un elemento comune che tutti i prodotti Polti hanno è il fatto di utilizzare un elemento completamente naturale, che è appunto l'acqua. Dove va da sé che si usa il vapore è una pulizia naturale e quindi il rispetto per l'ambiente è un diktat di Polti. Quest'anno Polti festeggia 40 anni. In 40 anni si fanno e si cambiano tante cose. Da un punto di vista strategico, diciamo che abbiamo messo il cliente al centro. Da un'azienda che poteva essere piccola, familiare, è diventata una multinazionale. E spero in un futuro eroseo. Sicuramente qua in Italia. Tanti altri anni belli, così positivi. E altri prodotti nuove e non si ferma più. Continuare nel processo di innovazione dei prodotti. E apertura a nuovi mercati. Avvicinandoci sempre di più ai fabbisogni dei consumatori. È un'azienda tecnologicamente avanzata, ma anche un'azienda incentrata comunque sui valori umani. Dobbiamo trasformarci piano piano a quello che viene definito ultimamente l'azienda 4.0. Comunque è una sfida e a noi fondamentalmente piacciono le sfide. Mi aspetto che i prossimi 40 saranno coerenti con il nostro passato e con il nostro presente. Le parole che più rappresentano Polti sono racchiuse in questo logo di 40 anni e secondo me rappresentano la Polti che è stata, la Polti che è oggi, ma anche la Polti che sarà. Per me Polti è scuidato. Polti per me è un committimento. Per 2018 evaporare. Per me Polti è famiglia. Determinazione. Se despedite. Mio ambiente. E qualità. Soluzioni. Italia. Innovazione. Mondo. Vapore. Pagione. Persone. Il rispetto. La facilità. Proporetto per Prevento. che l'anno. Grazie.